Sono Alessandro e sono il proprietario di Tenute Cervolini. La soddisfazione più grande che ho avuto è avere la mia bottiglia con il mio nome, il nome della mia famiglia. Quando vedo la mia bottiglia bevuta da altre persone è una grande soddisfazione. È lì che si vede tutto il lavoro svolto nella reazione di chi lo beve. La pandemia per me è una festa, è lì che si porta a casa il lavoro tutto l'anno, la fatica di tutto l'anno. È lì che poi si fa l'ultimo passaggio, è il passaggio nella produzione del vino. Si passa dalla campagna dove abbiamo trascorso tutta l'estate e andiamo a trascorrere l'inverno in cantina. Innovazione e tradizione possono esistere, infatti il nostro motto è l'evoluzione della tradizione. Perché usiamo le antiche tradizioni ma in chiave moderna, usando le tecnologie di oggi, l'evoluzione di oggi per avere al meglio il prodotto del futuro.